Grazie per l'introduzione. Come ha detto giustamente Stefano, il modello hotspot parte comunque dal laboratorio greco, che di fatto ha portato insieme alla chiusura tutta la Valcarut a una stagnazione, diciamo comunque a un infoltimento delle file dei migranti che avevano un sacco di tempo da aspettare in Grecia. Lo stesso modello per quel che ci è parso di analizzare proprio dal campo è che questo modello sia stato riportato nei fatti in Italia. Quello che abbiamo potuto osservare è stato in particolare il cambiamento drastico nel 2016 nelle modalità con le quali venivano prelevate le impronte e venivano identificati i migranti. Nel 2015 infatti si calcola che quasi il 50% dei migranti che sbarcava sulle coste italiane non veniva identificato. Ora questo significa, senza andare troppo nel dettaglio, che per il trattato di Dublino III essi potevano in effetti arrivare fino in Germania, arrivare nel nord Europa e lì fare la richiesta d'asilo. Quello che è arrivato chiaramente sotto spinta dell'Unione Europea è stato appunto l'ampliamento di questa procedura hotspot, che in questo momento non riguarda, attenzione, soli quattro centri hotspot che ci sono ufficialmente in Italia, ma tutti i porti dove avvengono gli sbarchi. E sostanzialmente consiste nel mettere come obiettivo di primaria importanza l'identificazione dei migranti. E quando dico primaria importanza, significo sopra ogni altra cosa. Noi abbiamo assistito personalmente a due sbarchi, uno a Catania, la città di Nahual, e uno a Messina, ma abbiamo parlato con diverse altre persone che seguivano questi episodi come Borderline Sicilia, ma anche vari attivisti di Palermo, che ci hanno raccontato come nei luoghi dove fosse più difficile identificare i migranti direttamente sul porto, essi venivano trasportati a gruppi molto piccoli di 50 persone dentro le questure, in modo da garantire alla polizia che ognuno di essi sarebbe stato identificato e che se qualcuno di loro avesse opposto resistenza, loro avrebbero utilizzato la forza. Ed ecco questo è il panorama che si affaccia per le persone che descriveva Nahual, passano non solo l'inferno della Libia, ma anche l'inferno che è nel viaggio stesso. Chi riesce a salvarsi in questo momento, ancora prima di ricevere le cure mediche, noi abbiamo avuto questa esperienza diretta a Messina, quando delle persone che sono state portate fuori dalla nave in barelle con probabilmente delle ustioni molto gravi, comunque hanno dovuto prima essere foto segnalate, registrate sulle impronte e poi appena successivamente è stato permesso loro di raggiungere l'ospedale tramite l'ambulanza. Ora questo va a creare di fatto con la parallela chiusura delle frontiere del nord, perché anche questo rispetto al 2015 e nel 2016 è stato segnato da una progressiva chiusura da Ventimiglia a Como al Brennero di quelli che erano i canali attraverso i quali i migranti procedevano verso il nord. Ed ecco quindi la creazione di questi due enormi stati prigione, da un lato la Grecia e dall'altro l'Italia, che ha un po' di nuovo spinto la frontiera verso il fuori dell'Europa e non più verso il centro. Ma questa esternalizzazione delle frontiere non si è assolutamente fermata. Se infatti già adesso il ruolo di controllore delle nostre frontiere dal lato dell'Egeo lo sta facendo la Turchia e non certo la Grecia, tramite quei tremendi accordi del 18 marzo che oltretutto sono completamente disattesi, perché se è vero che continuano le deportazioni dalle isole greche, l'accordo in teoria prevede che per ogni migrante siriano riportato in Turchia dalle isole, la Turchia manda in aereo un migrante siriano all'interno dell'Europa. Ora per quanto l'assurdità di riportare qualcuno che ha già pagato un scafista sofferto per il viaggio eccetera, e invece mandare qualcuno che era già in Turchia, questa cosa non è mai avvenuta. Non c'è nessuna testimonianza o segnalazione che un singolo migrante siriano sia stato rispedito dalla Turchia in aereo. Ecco lo stesso meccanismo in questo momento si sta riproducendo in Italia. Una volta che è stato fatto lo Stato prigione ecco che la frontiera viene spinta ancora un po' più in là, in questo caso con la guardia costiera libica. Non c'è la possibilità di fare un accordo con il governo libico per motivi evidenti, adesso richiederebbe una serata a parlare in approfondimento di quello che sta succedendo in Libia, ma è chiaro che è una situazione completamente balcanizzata con più di un governo centrale che diciamo si assume il ruolo dell'unico e vero, e proprio per questo noi in questo momento stiamo facendo i patti con la guardia costiera, tale e quale, come se fosse un'istituzione politica con cui si potessero avere dei rapporti, ignorando il fatto che più di una volta è stato denunciato le collusioni tra la guardia costiera libica e i mercanti di uomini. Ed ecco quindi che questa è la direzione in cui stiamo andando, abbiamo fornito non solo dell'addestramento sulle navi europee di questa cosiddetta guardia libica, ma abbiamo riportato sei motovedette che erano state all'epoca regalate da Maroni e che adesso sono state riprese dall'Italia, riparate, e da poco riconsegnate alla guardia costiera. È chiaro che l'obiettivo è molto semplice, il riuscire a far sì che questa guardia costiera non solo nelle acque libiche, ma anche nelle acque internazionali riesca a raccogliere i migranti che partano in modo da creare un blocco, quello che di fatto ha creato la Turchia. Ed ecco qui che arriva la vera spina nel fianco. La vera spina nel fianco in questo momento sono le ONG, sono gli occhi indipendenti, sono coloro che nel Mediterraneo non solo salvano i migranti, ma hanno anche il coraggio di raccontare e denunciare gli atteggiamenti barbari della guardia costiera libica, perché è vero che sono avvenuti dei casi in cui la guardia costiera ha proprio sparato dei colpi in aria minacciando le ONG di allontanarsi, ma è anche vero che sono stati segnalati dei casi in cui la guardia costiera ha picchiato con i bastoni dei migranti che erano su queste barche. Quindi veramente una situazione in cui i diritti umani non solo non sono garantiti, ma sono proprio lontani anni luce. Ecco che comunque in questo momento è il partner principe per l'Italia, ma ovviamente per tutta l'Unione Europea. Siamo quindi felici di annunciare questa sera, diciamo in anteprima, che avremo anche noi la possibilità di essere su una di queste navi, in particolare la Juventa di Jugendrettet, che mi ospiterà, come ha detto Stampa, dal 24 luglio al 7 agosto, in modo da riportare quello che succede all'interno del Mediterraneo attraverso degli occhi indipendenti, attraverso degli occhi che hanno il coraggio di dire quello che veramente sta succedendo e non certo di raccontare le favole che in questo momento racconta la televisione. Ci sono altri progetti che la campagna Over the Fortress porterà avanti quest'estate, non solo appunto nel mare, ma anche in determinate zone che continuano ad essere molto calde. Una è quella di Rosarno e l'altra è quella di Vintimiglia, dove proprio ieri centinaia di migranti hanno forzato il confine, la polizia ha risposto con dei lacrimogeni, diciamo, riconfermando quanto quella zona continuerà ad essere calda nei prossimi mesi, ma magari vado più in dettaglio di queste iniziative nel prossimo giro di interventi.